Sono diverse le coltivazioni che risentono della siccità che nel nostro territorio si protrae da troppi mesi, salvo qualche breve intervallo di pioggia che non è stato sufficiente a colmare le carenze dell'inverno. Ci siamo recati in un'azienda agricola nel Casalasco per vedere quali sono le colture più a rischio e le misure che sono state prese per far fronte al problema. Alcune colture risentono più di altre, come per esempio i meloni. Possiamo constatare l'estrema aridità del terreno che ci viene mostrata da un agricoltore. La siccità sicuramente la sentono un po' tutti i raccolti che hanno bisogno d'acqua anche nei periodi primaverili piuttosto che quelli estivi. Qua siamo in mezzo a dei meloni, viene fatta un'irrigazione a goccia però il terreno è molto secco. Possiamo vedere anche qua a terra del terreno molto secco che praticamente è privo di acqua. Dopo qua si può intervenire e irrigare anche altri raccolti che possono essere il frumento. Quelli lì hanno sofferto anche loro la siccità invernale. Noi qua siamo forniti dal consorzio di bonifica Navarolo che ci manda l'acqua lungo tutta una rete di canali per l'irrigazione e diciamo che quest'anno ha dovuto aprire prima il pompaggio delle acque per l'irrigazione, che è un paio di mesi prima. Adesso si vedrà, tante cose sono ancora da decidere, tante cose magari hanno sofferto, poi si sono riprese. Adesso quando andremo in raccolta, vediamo. Comunque sì, i meloni, per dire qua siamo in una serra di meloni, si prevede una produzione inferiore rispetto agli altri anni.